Qualcuno quando ha raccontato che dopo l'aggiornamento dell'app di J-Fly aveva avuto problemi, mi aveva commentato che io evidenziavo problemi e lui non rilevava. Ma non tutti rilevano problemi. Io faccio sempre i test, delle volte rilevo problemi e li documento, altre volte non ne rilevo e dico che a me in questo caso è andato tutto bene. Per esempio, io ho appena testato, è qua dentro, nella mia custodia che tengo nello zaino, ho appena testato il Mini 2 e non ho avuto problemi. Ho testato l'app di J-Fly 1.9.5. Nessun problema, ma purtroppo ci sono già alcuni casi che hanno rilevato problemi importanti e come faccio sempre e come mi diverte fare, Io oggi vi racconto tutto, in una giornata, come puoi vedere, di tempo brutto in Toscana, ma solito posto, o meglio, soliti posti dove di solito testo i miei droni, ma soprattutto la di J-Fly. E dunque, si inizia, ma come faccio sempre, ti chiedo un like se vuoi al video, ma soprattutto un'iscrizione, se non sei iscritto ti aspetto nel canale. Ho ricevuto proprio ieri una mail da Roberto che mi ha fatto preoccupare e visto che ieri avevo aggiornato la DJ Fly alla versione 1.9.5 e purtroppo ero a lavoro, non avevo potuto provarla, Oggi, anche e soprattutto dopo quella brutta mail che ho ricevuto, di quello che è successo a Roberto, dovevo e volevo provarla per forza, o meglio, l'ho già provata, ho già provato le cose principali. E vi dico, non ci sono novità di rilievo, ma solo sistemazioni, come dice DJI di alcuni bug, e allora vediamo veramente due o tre minuti, più o meno, di test principali, e poi vi leggo e vi racconto quello che è successo proprio ieri a Roberto, un mio iscritto, dopo aver aggiornato la DJ Fly alla 1.9.5 IOS. Guardiamo insieme, decolliamo quei droni e poi vi racconto. Bene, droni in volo, andiamo a vedere innanzitutto dentro l'app, firmware 1.06.0200, app 1.9.5, perfetto. Ricordatevi sempre, ve lo ricordo sempre, prima di andare a fare i vostri voli, andate a verificare tutte le altezze, soprattutto l'altezza RTH, e andare a capire anche, nelle impostazioni avanzate, che sia presente RTH in caso di perdita di segnale. Fatelo sempre, io lo faccio ogni volta, è una buona regola, è veramente un minutino, ma nemmeno 30 secondi e risolvete il problema. Dunque, intanto proviamo a viaggiare in normal, sono in normal in questo momento, i satelliti sono 23, per cui perfetto. Il drone viaggia bene, nessun tipo di problema, proviamo a passare a sport, andiamo un po'. In sport, il drone viaggia bene. Con lo là, riportiamolo verso noi. Proviamo anche, ovviamente, cine, ma direi che ci siamo. Di solito, faccio sempre queste prove per capire se tutto va bene. La rotazione è ottima, proviamo a vedere se andando in normal e registrare perde qualche frame o va bene. Tutto bene, perfetto, a questo punto, che direi, andiamo a fare una prova di un'operazione automatica, un quick shot, vediamo se funziona, andiamo a centrare il solito albero, eccolo qui. Andiamo a scegliere, andiamo a scegliere quick shot, scegliamo un circle, selezioniamo, start e vediamo se va. I satelliti sono 24, è partito il circle, mi sembra senza nessun particolare problema. La mappa va bene, i satelliti sono in questo momento 23, per cui è perfetto. L'altezza, a questo momento, del drone è di 28 metri. Si chiude provando un RTH e capirete anche poi, fra poco, il perché. Lo interrompiamo. Bene, l'ho interrotta e a questo punto proviamo a dirgli RTH, facciamolo da qua, ritorno e vediamo cosa fa. Vediamo se funziona anche lo spostamento della camera. Il drone va a 50 metri, perché avevamo previsto 50 metri. Eccolo qua, ritorna verso noi. Io posso, vediamo se ruoto. Si, si, funziona molto bene. Gimbal in automatico. Bene, funziona. Nessun problema. Sta in questo momento atterrando. Lo fermo un attimo, guardiamo un attimino il blocco dell'esposizione, ma ci siamo. Esposizione, il blocco esposizione va. Vediamo un po'. Ovviamente in questo caso è IOS. Vieni, vieni a me, vieni a me. Ecco, Mini 2, atterrato. Come vi avevo anticipato, tutto bene, nessun passo falso, non ho notato differenze con la versione precedente. Io vi ricordo che ho il Mini 2, l'abbiamo visto, con il film aggiornato all'ultima versione, la 01.06.0.200. Il drone non mi ha fatto nessun tipo di scherzo, niente, tutto è andato bene e invece gli scherzi li ha fatti davvero in modo preoccupante a Roberto, il mio iscritto che abita vicino Bologna e voglio leggere insieme a voi la sua me che mi ha mandato ieri per capire cosa gli sia esattamente accaduto. Leggiamola un attimino insieme. Ciao Big, sono Roberto e oggi ho avuto un problema enorme con il mio Mini 2. Ho fatto ieri, appena uscito l'aggiornamento a DJI Fly 1.9.5, io uso IOS e ho il 16.2 e un iPhone 13 Pro, mi dice Roberto. Dopo il decollo tutto era regolare e ho fatto qualche prova, ho scattato un paio di fotografie, ho fatto qualche video, poi anche un quick shot circle. Tutto normale, tutto in norma, scusate. Stavo volando dove sempre vicino a casa mia, io abito vicino Bologna, il drone era a 300 metri distante da me e la batteria era al 25%. Ho deciso di riportarlo in automatico a me, ma dopo aver avviato la procedura RTH mi dice I satelliti sono andati a zero, da averne 20 a perderli tutti di botto. Ma il bello è che l'app mi segnalava alert e mi dice ti dio la verità, ero preso dai panico e non mi sono reso conto di cosa mi segnalasse il drone, mi scrive lui. E poi continua, il drone mi è entrato in modalità atti e il mio Mini 2 era diventato quasi ingovernabile, non rispondeva bene ai omandi. Con grandissima fatica sono riuscito a riportarlo a me e a salvare il drone. Ma me la sono vista davvero bruttissima. Io aggiorno sempre il firmware, è l'ultimo 01060200, non avevo mai avuto un problema del genere, l'unica differenza era l'app di JFly 1.9.5 mi dice Roberto. E poi finisce dicendo adesso sono preoccupato a farlo rivolare e non posso nemmeno tornare alla 1.9.4. E chiedo a te se hai riscontrato problemi o cosa ne pensi, grazie. E allora voi cosa dite, cosa ne pensate, c'entra l'aggiornamento dell'app? Lui vola sempre, dice in quella zona, mai un problema. E gli era invece questo guaio che abbiamo letto insieme. Dovuto all'app, non dovuto all'app? Lui da quello che scrive è abbastanza sicuro che il problema sia riferito a questo aggiornamento. Io non sarei così sicuro, ma ci può stare. Gli ho chiesto se è possibile di fare delle prove e di aggiornarmi, perché sono davvero curioso. Prove sempre lì, in quel posto, come faccio sempre io qua, in quella zona, per capire se il problema sia stato un caso isolato o proprio la sua app con iOS e il suo Mini 2 gli dà davvero dei problemi. Poi un'altra cosa che ho scritto è quella di provare a usare un altro smartphone, sia iOS ma anche Android. Se riesce sarebbe importante dunque di raccontarmi e dirmi cosa è venuto fuori. E a questo punto appunto vediamo cosa accade, magari se ho novità vi terrò aggiornati perché sono molto curioso. E allora che dire, problemi io, avete visto, non li rilevo, anche con Android nessun problema, come come al solito alcuni li rilevano. Fatemi sapere voi sotto nei commenti se qualcuno, speriamo di no, rileva questo stesso problema o altri problemi. Appunto commentate qua sotto, vi saluto e ci si vede alla prossima con aggiornamenti dalla Toscana davvero grigia. e vi do la verità anche abbastanza fredda. Ciao, alla prossima!